BMW 218D Gran Coupé in pacchetto M Sport Questa è l'auto di cui vi parlerò oggi, restate con noi ed occhio alle immagini Derivata dalla BMW Serie 1, questa quattro porte in stile Coupé non manca di grinta e si caratterizza per dettagli sportiveggianti come i finestrini privi di cornice metallica tipici di questa versione Gli interni sono semplici e curati con uno stile minimale tipico di BMW Il motore è un 2000 diesel da ben 150 CV abbinato ad un cambio automatico Rapido e moderno il sistema multimediale Live Cockpit Professional con monitor fino a 10,3 pollici con Apple CarPlay Ottima la capienza che ci permette di stare comodi in quattro Ed anche la capacità di carico del baule non è male con i suoi 430 litri dichiarati Venite a scoprirla, siamo in via Pomigliano, Sant'Anastasia, Napoli, Romano Auto è la scelta giusta